E bella a tutti raga con il vostro Y2 che vi parla E ragazzi vi volevo dire che stasera volevo andare in live però Però come sapete con quello che mi è successo che per me non è che grave ma è grapissimo Che per me, soprattutto anche i soldi che devo ricevere per voi per il computer Non posso neanche promettermelo Ed è molto grave Penso che sarà irrisolvibile questa cosa, io ve lo dico Già da ora Quindi mi potete dire tutto quello che volete però non Io non posso fare nulla Io ancora non ho capito il motivo per il quale mi hanno fatto questa cosa Google Non lo so Come dirvi Non ho parole Non ho mai fatto niente di male a nessuno E succede questo E quindi come stavo dicendo Non so proprio come fare Questa sera proprio stavo aspettando le 9 e mezza per andare in live Però ho detto io Cioè stavo andando in live per stare sul cazzo alla gente Se ne va intanto Sempre la solita storia Sono così Andando in live per me è inutile Cioè è inutile veramente Cioè per farvi capire quando pubblico questo video Che è l'1 e 33 di notte Quindi boh Che tipica Scusatemi Ma per favore capitemi E sono molto incazzato Non potete capire Per me è una cosa molto seria E non lo so Ci vediamo domani Se riesco con una nuova live E ragazzi Che dirvi Buonanotte a tutti E per qualsiasi cosa mi volete chiedere Vediamo se vi riesco a rispondere Ciao ragazzi Ci sentiamo